Elio è un forno solare che è nato per cucinare con un'ottima qualità. Nasce tanti anni fa, nel senso che quando ero piccolo si andava al mare con la macchina, in particolare con la 500 che veniva parcheggiata vicino alla spiaggia sotto il sole e poi c'era l'abitudine di andare a pranzo a casa, quindi più o meno a mezzogiorno si usciva dal mare e dall'acqua e si entrava in una macchina che veramente era bollente. Quindi diciamo che da lì, con le esperienze chiaramente simili che tutti quanti proviamo ogni giorno, ho capito che effettivamente il sole è veramente forte e che effettivamente si possono raggiungere altissime temperature. Quindi questo forno per poter cucinare cibo con qualità è un forno che raggiunge anche le temperature superiori a quelle che raggiungiamo con il forno di casa. A casa diciamo che cuciniamo tra i 200 e i 220 al massimo, ovviamente anche molto a meno, e questo forno a secco ha superato i 300 gradi, quindi diciamo che possiamo permetterci di fare un po' tutto. Quello che facciamo a casa è un forno, si usa all'aperto con il sole, per cui da un punto di vista dell'utilizzo è più assimilabile ad un barbecue, perché non cucino esattamente dentro casa, non cucino la sera ovviamente, e però possiamo allungare anche la cottura nel pomeriggio perché abbiamo anche dei serbatoi di calore che ci permettono di allungare, di immagazzinare il calore e averlo anche nel pomeriggio. Le tempistiche della cottura sono le stesse anche del forno di casa. Per regolare la temperatura, siccome la temperatura sale con la somma di tutti i contributi di tutti gli specchi, in questo momento abbiamo il forno con 16 specchi e quindi abbiamo di fatto 17 volte la forza del sole sul cibo. Se noi togliamo degli specchi, possiamo togliere la potenza del sole e quindi la temperatura scende. Per poterci vedere da vicino, potete partecipare a uno degli eventi che organizziamo, proprio per mostrare la cottura solare, e quindi facciamo un pranzo in cui cuciniamo solo ed esclusivamente con i forni solari, dal primo all'ultimo piatto. Questo verrà effettuato nella primavera del 2019 nei dintorni di Roma. Il forno è disponibile sul sito www.maieliotuttoattaccato.it e lo trovate in fondo nei contatti.